Ascolta, era da un po' di tempo che volevo parlarti di questa cosa, però non c'è mai l'occasione di rimanere soli e te. Allora, io so perfettamente che le cose tra di noi non sono mai andate al meglio, ok? Ma io ho investito molto su di te, fin dall'inizio. E' per questo che voglio riprovarci con te. Certo, ovviamente per riuscire in questa cosa dobbiamo essere in due, anche perché tu con i tuoi continui cambiamenti a me non mi aiuti. Anzi, spesso mi fai pensare, e se non fosse quella giusta? E se la dovessi cambiare? Ma che stai facendo? Chica, sto parlando con la lavatrice, non mi devi interrompere, va bene? Allora tesoro, io adesso ti avvio. Ma la faccio io? Chica, per favore, è una lavatrice, non vedo perché se ci riesci tu non ci debba riuscire pure io a farla. Amo, andiamo? Eh, namo, namo. Ammazza che stile ho. Questo lo sai perché succede, perché siete tutte uguali, una manica te... Vabbè, lasciamo stare. E comunque io sto bene, pure così. Segui le avventure di Momo e Kika, lascia un like al video e condividi e soprattutto iscriviti ai nostri canali. Siamo su TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Andava bene, amo? Anche meno, lo so. Anche meno. Anche meno. Anche meno.